Ciao da Avsim! Siamo arrivati alla Supercoppa Italiana, siamo arrivati a Juventus-Napoli, il primo incontro tra queste due squadre di questa stagione, la prima partita contro il Napoli della Juve in questa stagione 2021, malgrado tutto perché la Juve certamente avrebbe voluto e potuto giocare la partita del 4 di ottobre, quindi se questa è la prima volta che si scontrano le due squadre quest'anno non è certo colpa della Juventus e ne abbiamo parlato ed anche per quelle motivazioni, ed anche per il CONI, per la FIGICI, per la Lega Serie A, per le ASL, questa partita di domani, mercoledì 20 gennaio alle 21 dal MAPEI Stadium di Reggio Emilia, è una partita che ha un solo possibile esito per la Juventus, la vittoria. Ne parliamo, prima però vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video, tra cui il video pre-partita, quindi con tutte le statistiche, la tattica su Juventus-Napoli, il post-partita e tutto quello che conseguirà a questa gara veramente fondamentale, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Juventus-Napoli è una partita cruciale per la stagione, per la situazione anche di Andrea Pirlo, per un rilancio motivazionale di tutto il gruppo, di tutta la squadra e anche di tutta la tifoseria. Io credo che sia una partita da dentro o fuori, non tanto per la questione panchina, cioè che Pirlo può rischiare di saltare, tra l'altro Pirlo contro Gattuso, ecco, se ne era parlato a ottobre, adesso per la prima volta si sfidano davvero due grandi amici, e non tanto per questo, perché secondo me Pirlo non rischia realmente l'esonero, Pirlo resterà anche se non dovesse vincere lo Scudetto, addirittura, figuriamoci, se dovesse perdere la Supercoppa italiana, quanto poco potrebbe pesare in termini di valutazioni che la dirigenza fa di lui. Il problema è dal nostro punto di vista di tifosi, cioè io sto parlando in questo caso da tifoso più che da analista, commentatore, opinionista, come volete definirmi, come volete ritenermi, perché da parte dei tifosi, da parte del tifo bianconero, della Juventus, questa partita, questa Supercoppa italiana ha assunto un'importanza che non aveva mai avuto nella storia. Noi di Supercoppa italiana ne abbiamo giocate, ne abbiamo vinte, però questa qui forse è la più importante di sempre, perché dobbiamo vendicare un po' di situazioni, dobbiamo rimettere a posto un po' di cose, dobbiamo zittire, dobbiamo prevalere, dobbiamo vincere letteralmente. Non si tratta di una partita, si tratta di una supremazia, si tratta di una superiorità, si tratta di piantare la bandiera a terra, si tratta di dire qui ci siamo noi, questo è territorio nostro, è competenza nostra, non dell'ASL. Questa è casa nostra, questo dobbiamo vincere noi e basta. Questo deve fare la Juventus, ma deve essere questa grinta, queste motivazioni, questa rabbia, questa ferocia, devono essere nella testa, nel cuore, nelle gambe, nei muscoli, nelle ossa, dei giocatori in campo. Ferocia, ferocia deve essere la parola, ferocia. Cioè devono andare veramente con il cortello tra i denti, devono veramente capire i giocatori, ed è questo il discorso che facciamo, che se andassero in campo i tifosi, anche solo 11, anche solo 11, non 11 milioni, ma 11 tifosi, probabilmente la partita sarebbe vinta. Vinceremmo la partita con 11 tifosi in campo, 11 dei più incazzati che ci sono, e ce ne sono tantissimi tra di noi i giuventini. Per come è andata con l'Inter, per come sta andando il campionato e per tutto quello che è stato col Napoli, del Napoli, da parte del Napoli in tutta questa stagione. Che tra l'altro si somma a tutto quello che era stato in precedenza. E sto parlando della tifoseria, quindi della rivalità, sto parlando di De Laurentiis, sto parlando delle ASL, sto parlando della trafila giudiziaria su Juventus-Napoli, sto parlando di tutti i lecchini del Napoli di cui vi ho già parlato, che hanno sempre sostenuto la posizione del Napoli anche quando è stata ed era idea indifendibile, anche quando è stata contraddittoria, anche quando è stata totalmente incoerente. La Juventus deve vincere per se stessa ed anche per il calcio italiano assolutamente. Perché per il calcio italiano? Perché come ho già detto, la situazione Juventus-Napoli, il caso Juventus-Napoli, il caso Napoli e delle ASL, ha minato alla base la regolarità del campionato di Serie A e del calcio italiano. Quindi la Juve deve fare giustizia di questa situazione, ma soprattutto deve vincere per se stessa. Ripeto, una vittoria fondamentale come non ce ne sono mai state, la supercoppa italiana più importante in assoluto. Ma nel momento stesso in cui vi sto lanciando questo input motivazionale e sto provando a comunicarvi questa grinta, questa ferocia che devono mettere i giocatori in campo, e volendo vi sembro ottimista, vi sembro positivo per la partita, vi assicuro che ho tutti i timori del mondo. Timoroso, timoroso come ha detto Pirlo, se entriamo in campo timorosi le cose vanno male, ha detto dopo la partita, dopo Inter-Juventus. Dicrazioni che tra l'altro sono state criticate da molti, perché tu come allenatore non puoi andare a criticare i giocatori in quel modo davanti alle telecamere, lo devi fare nello spogliatoio. E Pirlo da ex giocatore ultraventennale lo sa. Quindi errore, errore probabilmente di valutazione, speriamo che non costi nulla a livello di equilibri di spogliatoio, anzi speriamo che faccia incazzare il giusto i giocatori per andare in campo veramente a metterci ferocia, però, a parte questo, io sono timoroso perché la Juventus e questi giocatori, questa Juventus, anche i giocatori dello zoccolo duro, i giocatori, i veterani, gli italiani, i capitani, quelli più anziani, che hanno, dovrebbero teoricamente incarnare, rappresentare il fino alla fine, la ferocia della Juventus appunto, probabilmente sono i primi ad aver già dimostrato in altre occasioni simili che altro che metterci tutta la mentalità, altro che metterci la ferocia, la Juve va in campo impaurita. Appunto, timorosa, perché su quello Pirlo ha ragione, ha sbagliato a dirlo, ha sbagliato i modi, ha sbagliato il momento, ma ha ragione. Siamo chiaramente andati in campo con la paura addosso contro l'Inter, anche per colpa di Pirlo, perché se metti tre diffidati titolari in zona difensiva, è chiaro che stai dicendo alla squadra non andate a metterci la gamba, non andate nei contrasti, e se tre dei giocatori più coinvolti, dovrebbero essere più coinvolti nel recupero del pallone, non ci mettono la gamba, non ci mettono la gamba neanche tutti gli altri. E così è stato. Quindi colpi anche di Pirlo, ma di fatto la Juve è andata in campo impaurita ed è già successo. Si dice che la Juve trovi le migliori motivazioni quando ha le spalle al muro e quando deve giocare le grandi partite. Non è sempre stato così. Quest'anno sicuramente più nelle grandi partite che nelle partite abbordabili. Guardate quanti punti abbiamo perso col Crotone, col Verona, col Benevento. Invece contro il Barcellona abbiamo fatto una grandissima partita, contro il Milan abbiamo fatto una grandissima partita, ma contro l'Inter no, per esempio. E quindi il Napoli a quale categoria apparterrà? A quella dell'Inter o a quella del Milan e del Barcellona? Non lo possiamo sapere al momento. Dobbiamo soltanto vedere come si scendrà in campo. Non serve neanche ascoltare le parole di Pirlo in conferenza stampa pre-partita. Perché le parole di Pirlo in conferenza stampa pre-Inter-Juventus erano state magnifiche. Erano state delle parole di grande incoraggiamento. Ad ascoltare quello uno avrebbe detto, vabbè, la Juve vince. È chiaro che la Juve vince. Dall'altra parte Conte sta gettando la pressione addosso alla Juve, segno che evidentemente loro ne soffrono. Chi può vincere se i punti di partenza sono questi? Ed infatti, quindi non serve guardare i social, ascoltare le parole, le dichiarazioni. Quelle sono letteralmente chiacchiere. Purtroppo dobbiamo solo aspettare il fischio di inizio e vedere che squadra ci sarà in campo. E tra l'altro, metterci tutta la ferocia del mondo neanche potrebbe bastare. Perché dall'altra parte abbiamo un Napoli in grandissima forma, fisica e psicologica. Quindi davvero sarà una partita difficilissima e veramente la più importante. E quindi a questo punto possiamo star qui a discutere e a confrontarci se ci crediamo oppure no come tifosi che la Juve ce la possa fare, che tipo di prestazione farà. Ma ancora di più ribadire quanto sia fondamentale fuori dal campo vincere questa gara. Perché io ho ancora nella testa frequentemente l'immagine di Andrea Agnelli che si mette di fianco da Rello dell'Arentis e va a dare le medaglie ai giocatori del Napoli alla fine della finale di Coppa Italia persa ai rigori lo scorso mese di maggio dopo il lockdown. Perché quella immagine è un'immagine forte. È un presidente della Juventus che sovrasta, sopravanza, elimina, mette da parte le rivalità accese che ci sono, soprattutto tra le tifoserie, e va a dare la mano, va a tendere la mano a dire siete stati più bravi, anche se avete vinto il rigore, avete vinto e adesso vi premio io. Dell'Arentis una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta, ovviamente. È inutile stare qui a discutere, non l'avrebbe mai fatta. Vediamo, speriamo che possa avere opportunità di dimostrare domani che ci sbagliamo. Cioè che domani vince la Juve, sarà dell'Arentis a mettere le medaglie al collo dei giocatori della Juve. Speriamo, vediamo un po' che cosa succede. Però quell'immagine, è un'immagine che non ha prodotto frutti. Perché dopo che cosa è successo? Il peggio del peggio. Cioè dopo quando si doveva giocare Juventus-Napoli un'altra volta, sappiamo com'è andata. Con Dell'Arentis che ha chiesto il rinvio della partita da Agnelli, una cosa che è stata dimenticata da tutti. Ora io non voglio tornare sulla questione Alza, perché vi ho detto tutto quello che c'era da dire. Vi ho detto tutto quello che c'era da dire. Ho citato il caso Juventus, il caso Azal-Kmar, il Genoa, che era Napoli-Geno e non Genoa-Napoli. Visto che me l'avete contestato tutti come se fosse un errore. Che errore? Peggiora le cose, perché se si fosse trattato di Genoa-Napoli, senza l'intervento dell'Asl di Napoli, sarebbe stato un conto. E sarebbe stato più simile a Juventus-Napoli che non si è giocato. Ma essendo, poiché si trattò di Napoli-Genoa, è molto più simile a Napoli-Empoli ed è molto più simile anche a Napoli-Azal-Kmar. E quindi la situazione è a Napoli-Fiorentina soprattutto. Quindi guai a dire che il mio è stato un errore. Sì, il mio è stato un errore, è stata una svista, ma a dire le cose come stanno è anche peggio. Quindi non è che dal mio errore nel video in cui ho fatto la cronistoria di tutta questa vicenda appunto del caso Napoli, quindi ne deriva qualche cosa a vantaggio del Napoli, anzi tutt'altro il contrario. Tolto questo, dicevo non voglio tornare a quello, però da lì, dicevo, la telefonata e il messaggio di Laurenti Sadanielli è stato tralasciato quando invece era la cosa fondamentale, cioè manifestava la non intenzione del Napoli di giocare. L'intenzione del Napoli di non disputare la partita, di non presentarsi e di chiedere l'invio. E da lì sappiamo tutto quello che è successo. E io non dimentico neppure che il 22 dicembre, quando dovevamo scendere in campo, e poi abbiamo perso con la Fiorentina, inguaiandoci la stagione, uscì la sentenza del Coni che ci torse quei tre punti. E allora torniamo al discorso delle motivazioni. Agnelli non deve mettere la medaglia al collo dei giocatori del Napoli e fare la foto poi ai Pullman fuori San Siro per dire noi ci siamo venuti a giocare nonostante i positivi al coronavirus se poi perdiamo le battaglie giudiziarie e perdiamo le battaglie in campo. Cioè l'incazzatura che possiamo provare domani sera se la Juve perde è inenarrabile. Io non posso neanche anticiparvi che cosa sarei in grado di fare qui davanti alla telecamera se succede. Non ve lo posso anticipare, non ve lo posso raccontare perché non lo riesco neanche ad immaginare che cosa succede se perde la Juve. Non lo riesco ad immaginare dopo tutto quello che è stato. Cioè noi abbiamo messo le medaglie al collo, poi dopo aver perso, dopo aver dimostrato di non essere in grado di vincere la partita sul campo, poi quando si trattava di rigiocare perdiamo la partita dei tribunali perché non si è capito, non si è capito perché l'abbiamo perso la partita dei tribunali nel senso che per me la sentenza del Coni è una sentenza contraddittoria, ve l'ho spiegato e ve l'ho detto. Poi Agnelli mette la foto di Pullman come a dire eh, vedi, noi rispettiamo le regole e poi che cosa otteniamo? Non otteniamo nulla, non otteniamo nulla da questo comportamento. Neanche, neanche la ferocia ai giocatori. Allora io mi auguro, io mi auguro che la società, Agnelli, Nedved, visto che poi Nedved si incassa, no, Nedved vede che l'arbitraggio non gli piace, si incazza e se ne esce dallo stadio. Bene, può darsi che abbia fatto anche bene. Per me ha fatto malissimo, lo dissi all'epoca, questa è la partita contro la Fiorentina, l'Iventus Fiorentina a 0-3 perché tu non puoi abbandonare la squadra in campo. Paratici che insulta gli arbitri, l'ha fatto varie volte, è stato multato. Ecco, questo tipo di atteggiamento fatelo vedere ai giocatori. Cioè andate dai giocatori e dite, cari ragazzi, qua o si vince, oppure tabula rasa. Cioè non vi paghiamo gli stipendi, vi multiamo, vi facciamo delle sospensioni, vi mandiamo in ritiro, oltre il... cioè qualche cosa deve succedere. Magari non queste cose così drastiche perché siamo la Juventus. Ecco, ma dimostriamo di essere la Juventus. Basta chiacchiere, basta barzellette, basta fesserie. Si va in campo e si lotta, quanti sono i minuti? 90? 91? 120? 121? 18 rigori, fino al diciannovesimo rigore dobbiamo stare lì sul pezzo. La ferocia! Non quella che abbiamo messo con l'Inter, neanche quella che abbiamo messo con Mila, neanche quella che abbiamo messo con il Barcellona. Una ferocia inaudita, mai vista. Deve essere una Juve bianconera rossa, deve diventare rossa dalla ferocia, dall'aggressività sul campo, con il coltello tra i denti. Perché non è solo un trofeo in questo caso, è tanto altro di più. Noi tifosi ci aspettiamo questo, assolutamente, e basta, nient'altro. Niente chiacchiere, tattica, indisponibili, non ce ne frega nulla. Vincete anche male, cioè giocate anche male, anche malissimo, anche peggio di come si è giocato con l'Inter. Ma si deve portare a casa il trofeo, non conta nient'altro in questo caso. Si deve portare a casa il trofeo, si deve portare a casa il trofeo. Si deve vincere la Supercoppa italiana e si deve battere il Napoli. Per zittire tutti quanti, almeno per una sera, almeno per qualche giorno. Ce la fate? Ci riuscite? Grazie per l'attenzione. Buon dibattito a voi nei commenti, grazie a voi per l'attenzione al video. Like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto e volete restare in contatto con me. Ci vediamo molto presto. E sempre forza Juve!